La contaminazione tra linguaggi visivi, materiali eterogenei, fotografie che simulano collage, segni, disegni e dipinti che mutano la nostra percezione dello spazio, rendono alle senso un'artista che non possiamo che definire eclettica, qualsiasi altra definizione le farebbe torto. I luoghi dimenticati presso cui si ricca in visita si arricchiscono di immagini che, come presenze simboliche o fiabesche, tornano ad abitarli. Questo però non è tutto, l'artista crea un nuovo ordine attraverso la fotografia che immortala sapientemente zone circoscritte, lasciando fluire la nostra attenzione sul rapporto tra disordine e ricerca formale e ci fa giungere ad un equilibrio studiato meticolosamente e assolutamente paradossalmente estetico. Non mancano i riferimenti colti che si meschiano al pop. Gli angeli giotteschi che animano alcune stanze divengono poi graffiti dal carattere fumettistico, che riflettono l'ideale estetico di corpi sottili e perfetti e li rendono più reali dell'idea che rappresentano. Ale immortala e ridona dialogo a questi spazi faticenti, che si rigenerano attraverso la sottile bellezza inedita, invisibile ai più ma pronta a rivelarsi a chi si lascia guidare senza alcun pregiudizio. E additions our thoughts quicker! This is Youtube to beviensζertas.com I tumidade www.x obedience.com AOL! Get set 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 set! AOL!